Buongiorno, in questo tutorial proveremo a risolvere alcuni esercizi riguardanti il parallelismo e la perpendicolarità tra piani. In particolare risolveremo gli esercizi sul libro di testo a pagina 568, numero 59, 60 e 61. La consegna dell'esercizio richiede per ciascuna delle coppie di piani, segna indicate, di stabilire se i piani sono paralleli o perpendicolari. Cominciamo quindi con l'esercizio numero 59. I due piani sono caratterizzati dalle equazioni x meno 4y più meno 2z uguale 1, il piano che possiamo chiamare alfa, e il piano beta invece, dall'equazione, un mezzo x meno 2y meno z uguale 1. Ricordiamoci che ogni piano può essere rappresentato dal proprio vettore normale, quindi il vettore normale del piano alfa avrà come parametri i coefficienti di x, y e z, quindi avrà componenti 1, meno 4, meno 2. Invece, il vettore normale al piano beta avrà come componenti 1, mezzo, meno 2, meno 1. A questo punto, qualunque relazione tra i due piani è trasferita in una relazione tra vettori. Osserviamo, si nota immediatamente, che il vettore n alfa ha le componenti tutte doppie rispetto a beta. Volendo possiamo formalizzare scrivendo che n alfa è uguale a 2n beta. Ora sappiamo che quando i due vettori hanno componenti proporzionali tra loro, sono paralleli, quindi il piano alfa è parallelo al piano beta. Risolviamo adesso l'esercizio successivo, l'esercizio numero 60. I due piani hanno equazione x meno y più z uguale 1, il piano alfa, mentre il piano beta ha equazione y più z uguale 5. Lavoriamo come prima. Il vettore n alfa, il vettore normale ad alfa, ha componenti 1, meno 1, 1. Il vettore beta, n di beta, normale al piano beta, ha invece componenti 0, osservate che manca il termine in x, 1, 1. Ora è evidente che non c'è proporzionalità tra i due vettori, ma in quanto non è possibile ottenere a partire da il valore 1 e il valore 0. Possiamo controllare se i due piani sono perpendicolari, calcolando il prodotto scalare tra i due vettori. Il prodotto scalare ricordiamo che si ottiene moltiplicando le singole componenti e sommando quindi i prodotti. Allora otteniamo 1 per 0, 0, più meno 1 per 1, quindi meno 1, più 1 per 1, quindi più 1. Il prodotto scalare vale 0, quindi i due piani alfa e beta sono ortogonali tra loro. Proseguiamo col terzo esercizio. I due piani in equazioni sono 2x più 4y più z uguale 0 per il piano alfa e il piano beta, ha invece equazione x meno 3y meno z uguale 6. I vettori corrispondenti sono il vettore normale ad alfa di componenti 2, 4, 1, mentre il vettore normale al piano beta ha componenti 1, meno 3, meno 1. Anche in questo caso notiamo subito che non c'è proporzionalità tra i due vettori. Infatti se la prima componente del vettore n alfa è il doppio della prima componente del vettore beta, ciò non vale per la seconda componente. Proviamo a controllare l'eventuale perpendicolarità eseguendo il prodotto scalare. n beta uguale 2 meno 12 meno 1, che è diverso da 0. Quindi vuol dire che alfa e beta, i due piani alfa e beta, non sono né paralleli né perpendicolari tra loro. Grazie e arrivederci al prossimo tutorial.